800.000 euro per le comunità montane di Sondrio e Morbegno. La giunta regionale, subroposta dell'assessore agli enti locali Massimo Sertori, ha approvato due convenzioni in tema di Green Community. Con questi due atti, spiega l'assessore, stanziamo risorse importanti cofinanziando due progetti ammessi e finanziati dal bando del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie. Nello specifico, la prima delibera approva la convenzione tra Regione Lombardia e CM di Sondrio per il cofinanziamento della proposta di Green Community con 400.000 euro, di cui 72.500 con risorse regionali e 327.500 con risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Con una seconda delibera è stata approvata la convenzione tra Regione e CM Morbegnese per un importo di 400.000 euro. Gli obiettivi sono riconducibili alla gestione del territorio naturale e sentiristico con la promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani interessati.